Buonasera a tutti, benvenuti. Ecco, sono contento di aprire questa serata che è dedicata anche a un argomento estremamente attuale con il nostro ospite che è il professor Gianluca Limonti dell'Università di Milano che essenzialmente fa ricerca in due fronti appunto. Da una parte è un fisico delle particelle elementari e quindi lavora il grande rivelatore Atlas del CERN, dall'altra però da molti anni si interessa ai problemi dell'energia, tanto da far parte anche della società europea di fisica, il gruppo di energia appunto di vari esperti che si riuniscono a parlare appunto di questo tema e oggi appunto affronta il tema proprio dell'energia e una prospettiva di presente e di futuro che è estremamente attuale. Quando abbiamo deciso di organizzare questo ciclo di conferenze come ogni anno facciamo non pensavamo a quello che sarebbe successo appunto e che purtroppo sta succedendo. Dico purtroppo perché appunto si tratta di una cosa molto drammatica appunto da una parte la guerra ma anche dall'altra, il grande problema dell'energia a cui si unisce anche il grande problema ambientale insomma che stiamo vivendo adesso. Allora, prima di passare la parola ecco voglio però sempre ricordare e ringraziare il Comune di Varese che ci concede appunto di avere queste conferenze in questa bella sala. E dire che questo è il nostro penultimo appuntamento quindi poi alla fine magari ritirate anche il volantino e vi dirò quali sono ancora gli appuntamenti che ci aspettano. E quindi passo la parola al professor Alimonti, grazie. Grazie, grazie inizio tutto a te, a Luca, al professor Molinari per avermi invitato qui e alla società astronomica Schiapparelli per questa serata. Quindi grazie, grazie Luca, grazie a voi per essere qui presenti. Il tema che mi è stato posto è l'energia per la transizione sostenibile. Vedremo di fare due chiacchiere su questo. Durante la presentazione magari presenterò degli stimoli, degli argomenti, magari se poi vorrete anche approfondire attraverso domande, possono servire dopo. Inizieremo dando uno sguardo al consumo energetico globale, diciamo, del nostro pianeta, però tenendo sempre un occhio di riguardo a quella che è la situazione italiana, quindi la produzione italiana. E poi affronteremo insieme quelle che sono un po' le nuove politiche energetiche, cioè prima un po' come è la situazione attuale, come siamo arrivati sino adesso e poi l'idea dove vogliamo andare. E soprattutto come, che non è magari così facile. Adesso vediamo di schiacciare il tasto giusto. No. Questo sì. Ok. Perdonatemi, perdonatemi. So che qua rischio di perdermi subito il pubblico, però d'altra parte parlando di energia, e un fisico parlando di energia, cosa volete che inizi? Con delle unità di misura. Ma giusto per capire un attimo di cosa stiamo parlando, eh. Quindi, volevo introdurre prima una caloria, che è quella quantità di energia che serve per alzare di un grado un centimetro cubo d'acqua. Una quantità estremamente limitata, piccolissima. Tant'è che per far bollire un litro d'acqua all'incirca servono centomila calorie. Tra l'altro, a volte ci si confonde, perché la caloria alimentare, adesso si trova l'addizione giusta su tutte le confezioni in calorie, spesso correttamente, ma una volta la caloria alimentare in realtà era la kilocaloria della fisica. Comunque, centomila calorie per far bollire un litro d'acqua. Forse non tutti sanno che in una barretta di cioccolata ci sono, eh scusa Luca, io mi sposto molto e ti taglierò la... Che in una barretta di cioccolata ci sono qualcosa come 850.000 calorie, una quantità notevole d'energia. che è circa un kilowattora, anche questa qua è un'unità con cui spesso abbiamo a che fare, e che è incredibilmente più o meno la stessa energia che c'è in un candelotto di inalmite. Solo che lì si brucia più velocemente, per quello che esplode. Invece quella di cioccolata, diciamo, è più stabile come forma di energia, ma come quantità di energia siamo lì, eh? Con un kilowattora, dipende dalla potenza, dalla dimensione, se vogliamo, del forno che ciascuno di noi ha a casa, ma si riesce a tenere acceso un forno un'oretta, forse anche meno, una mezz'oretta, è il consumo di un forno tipico. Ma è anche l'energia che serve a un uomo per salire in cima al Monte Bianco, dal livello del mare. Se uno fa due conti, il peso dell'uomo, il dislivello che fa, è circa un kilowattora, quindi questo kilowattora non è poca. Non è poca roba, eh? Sino ad arrivare poi alla tonnellata equivalente di petrolio, che sono mille chili di petrolio, una tonnellata di petrolio, che sono 10.000 kilowattora, che è quell'energia che più o meno fa spostare per un 15-20.000 chilometri una macchina media a combustione interna di quelle che ancora ci sono in giro. Giusto una panoramica, poi basta, prometto che non parlerò più di unità di misura, ma cominciamo ad usarle. E' a fuoco? Lo vedete a fuoco? Perché io userò molti grafici. Sì, premete così. Vedete? Sì, sì, premete. Ok, va bene. Comunque questo qui è l'andamento del consumo energetico globale negli ultimi 50 anni, prima, dal 1971. E qui vediamo, diviso per fonti, come è cresciuto nel corso degli anni. Forse il più interessante è questo grafico a torta, dove confronta le due situazioni, questo appunto 50 anni fa e oggi. Dunque, cominciamo a notare come si è aumentata significativamente l'energia utilizzata. Adesso siamo a qualcosa come 14 miliardi di tonnellati covalenti di petrolio, che abbiamo visto prima, rispetto a meno della metà di una cinquantina di anni fa. E questo è come percentualmente diviso, divisa questa energia primaria. L'energia, la fonte più importante era ed è tuttora il petrolio, ok? Che è la fonte essenziale per i trasporti, essenzialmente. Il carbone all'incirca non è cambiato molto, vediamo in questa percentuale. Il gas naturale si è allargato molto. Il nucleare, teniamo presente, lo vedremo in maniera ancora più marcata quando parleremo dell'energia elettrica. Perché il nucleare serve per produrre fondamentalmente solo energia elettrica. È aumentato molto, ma perché all'inizio degli anni 70 si era all'inizio, diciamo, dell'epoca nucleare. E poi vediamo qua le rinnovabili, sul 10, lo vediamo qua, sono dal 12 al 14%. Quindi le percentuali nel corso degli anni non è che siano cambiate moltissimo. Questo è invece come è andato l'utilizzo di energia primaria in Italia. In Italia, vediamo dal 1990 ad oggi, anche qua diviso per fonti, intanto vediamo subito questa suddivisione percentuale. Eventuale, attualmente l'Italia, circa il 20% dell'energia primaria viene da rinnovabili, l'80% da fossili. Energia primaria, e quindi tutti gli usi, trasporti, riscaldamento, elettricità, tutto. E abbiamo un consumo totale di 138 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. Vuol dire che ciascuno di noi in media consuma all'anno poco più di 2 tonnellate equivalenti di petrolio, di energia. Non vuol dire necessariamente solo petrolio. Nelle varie forme di energia, gas, eccetera, la somma complessiva dell'energia che viene consumata da ciascuno di noi in media all'anno è poco più di 2 tonnellate equivalenti. Prego. Che quello sopra è in valore assoluto. Qua ci sono proprio le quantità di energia consumate e per un totale di 138 megatemi. Questo invece è in percentuali. Ok. Però alla fine l'importanza, diciamo, di ciascuna fonte è la stessa, nei due grafici. Qui mi sono permesso di fare una piccola parentesi di due o tre lucidi, non mi ricordo esattamente, due o tre lucidi, per condividere con voi una considerazione a carattere generale. Perché molto spesso si parla dei problemi energetici che magari affliggono noi, o quelli che pensiamo affliggano l'Europa, dove vogliamo, dove siamo, dove vogliamo andare. Ma ci scordiamo uno sguardo globale. Quello che voglio dire è che a noi magari possiamo essere preoccupati di alcune cose che non sono le stesse preoccupazioni di altre parti del mondo, di altri habitanti del mondo. Ok. Questo è il consumo pro capite nel nostro pianeta, che vediamo bene è molto disuniforme. Questi colori, i più chiari, tra 0 e 1,5 tonnellate equivalenti di petrolio pro capite, non è molto lontano, soprattutto nella parte più vicina allo zero, da quello che consumava l'uomo primitivo. E vediamo come buona parte, per esempio, dell'Africa, del Sud America, ma anche altre parti del mondo, tuttora consumino quelle ridotte quantità di energia. Qui ci sono alcune considerazioni. L'Africa, con circa il 14% della popolazione mondiale, ha solo il 3% del consumo mondiale di elettricità, la quale principalmente viene consumata nel Nord o nel Sud Africa, escludendo i paesi dell'Africa settentrionale e meridionale, cioè essenzialmente escludendo quelli un po' più ricchi, se vogliamo, dell'Africa. La principale fonte di energia per la restante popolazione africana è il legno. Questa penso che sia un'immagine, che è un'immagine ricostruita ovviamente, perché rappresenta il nostro pianeta visto di notte, tutto di notte, che chiaramente non ha senso, che però più di tante parole penso che renda l'idea della distribuzione disuniforme dei consumi di energia al mondo. Come si diceva prima, si parlava dell'Africa, che è buia, appare buia. E questo ha un impatto diretto, come ci sono diversi studi anche dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, ha un impatto diretto sulla, lasciatela dire, qualità di vita che si vive nei paesi dove c'è un basso consumo di energia. Consideriamo che circa un miliardo di persone al mondo tuttora vivono senza accesso all'elettricità. Non hanno elettricità, non è che ogni tanto hanno un blackout, non hanno elettricità. E cosa forse ancora più grave per gli impatti sanitari che la cosa provoca, è che quasi 3 miliardi di persone, scusate ogni tanto ci sarà qualcosa scritto in inglese, che non hanno dei sistemi per cucinare ma neanche per riscaldare l'ambiente puliti. Cioè vuol dire che per cucinare o scaldare l'ambiente dove vivono bruciano legna o sterco secco d'animale. Ma non è che lo bruciano come noi, magari un termocamino ventilato con tutto il riscaldamento che gira bene. Cioè bruciano in fiamma aperta nel centro della capanna della legna. Questo provoca delle emissioni di monossido di carbonio, di particolato, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo vedremo meglio dopo, ritiene essere all'origine circa un milione e mezzo di recessi al mondo. Quindi questa è la situazione di quasi 3 miliardi di persone, quindi non più la metà del nostro pianeta ma non tanto lontano da lì. Ok, adesso invece torniamo a parlare di noi. Però penso che fosse importante comunque tenere uno sguardo anche ad altre situazioni del nostro pianeta. Questo invece, diciamo, il grafico analogo a quello che abbiamo visto prima per l'energia primaria, questa si riferisce invece all'energia elettrica, puramente energia elettrica, dal 1970, gli ultimi 50 anni, ancora una volta. Più che quadruplicato il consumo dell'elettricità, ma ancora una volta lo vediamo meglio nella suddivisione a torta. Circa 50 anni fa avevamo 6.000 teravattora a livello mondiale di elettricità consumata, più che quadruplicata adesso. Per cui, attenzione, i grafici a torta ci danno delle informazioni, ma alle volte ci imbrogliano. Nel senso che, se vediamo, non lo so, l'idroelettrico, che qua era il 21%, e adesso è il 16%, non vuol dire che la produzione idroelettrica sia diminuita. No, tutt'altro. È più che quadruplicata, solo che non ce l'ha fatta a stare dietro a questo importante aumento. Sta di fatto che il carbone era, ed è tuttora, la fonte più importante al mondo per la produzione di energia elettrica. Il petrolio è praticamente sparito dall'energia elettrica. Avevamo visto prima che è la fonte più importante tra le energie primarie, perché la fa la parte del leone nei trasporti. I trasporti al mondo vanno a petrolio, è inutile che ce la raccontiamo. Però, per fortuna, dico io, è uscita dalla produzione termoelettrica. Cioè non si brucia più petrolio per produrre elettricità. L'elettricità viene prodotta bruciando carbone, bruciando gas, oppure dalle rinnovabili o dal nucleare. È un po', lasciatemela dire così, è un po' uno spreco bruciare una fonte così preziosa da cui dipende l'industria chimica, fondamentalmente, il nostro pianeta, bruciarla per produrre calore e poi trasformarla in energia elettrica. Lasciatemela semplificare così. Comunque, il petrolio è uscito dalla produzione di elettricità e la parte lasciata libera dal petrolio è stata in buona parte coperta dal gas naturale, dal nucleare e poi da queste nuove rinnovabili non idroelettriche, perché l'idroelettrico è una rinnovabile storica, diciamo, che normalmente viene separata dalle rinnovabili più moderne. Tra queste non idroelettriche rinnovabili c'è considerate l'eolico e il fotovoltaico, fondamentalmente. E questo, invece, è un grafico relativo all'Unione Europea, dove, ecco una cosa che magari non vi ho fatto notare prima qua, vedete come il nucleare copre il 10% del fabbisogno elettrico mondiale, mentre in Europa si ha più del doppio, il 23%. Il nucleare è la fonte di produzione elettrica in Europa più importante. Perché vedete che poi il carbone o il gas sono, diciamo, le seconde in ordine di importanza, ma comunque inferiore al nucleare. Le rinnovabili coprono circa il 30%. E questo, invece, è un focus sull'Italia. Ancora una volta, questo è in valori assoluti, quindi leggete qua il numero in 300 terawattora, che è più o meno il consumo del nostro paese all'anno, 300 terawattora, quindi... E questo lo vediamo, invece, in percentuale, dove in Italia circa il 40% di energia elettrica prodotta viene prodotta da rinnovabili. Avevamo visto che il 20% della nostra domanda di energia primaria era coperta da rinnovabili, ma ben il 40% di energia elettrica. Con questa parte qua di eolico e solare, che dal 2010, adesso poi vedremo dei grafici più dettagliati, è cominciato a diventare più importante. Va da sé, come sottolineava Luca prima, che eravamo ignari dell'attualità che avrebbe avuto questa presentazione in questo periodo, va da sé a richiamare l'attenzione sull'importanza che il gas naturale ha in Italia nella produzione dell'energia elettrica. Circa il 50%, lo vedete qua, della nostra domanda elettrica viene coperta da produzione da gas, quindi termoelettrica da gas, nelle centrali a ciclo combinato. Prego. Questa è quella prodotta, cioè non c'è quella importata. Che non copre il 100%, copre l'85%. Adesso non so se nel grafico subito dopo o fra due o tre arriva a quella... Eh ma anticipa tutte le domande, è attentissima, bisogna... Eh questa qua, ecco. Questa qua l'ho messa per due motivi. Uno è perché è compreso, e poi ci torniamo, anche la parte di scambi con l'estero, che è questa qua, poi ci torniamo. Ma innanzitutto perché dà uno sguardo più storico alla produzione elettrica italiana, no? Prima, avete visto che il grafico di prima iniziava dal 90, 30 anni fa, ok? Qui invece inizia dall'inizio del secolo scorso. Ma anche perché volevo sottolineare l'importanza che ha avuto l'idroelettrico in tutta la prima... Sino alla metà del secolo scorso. L'idroelettrico in questo grafico stranamente, di solito l'idroelettrico è colorato in blu, questo grafico no, l'idroelettrico è questo colorino qua un po' sbiadito, eccetera. Ma vedete come, sino al primo dopoguerra, la domanda elettrica del nostro paese era molto più bassa, vedete questa qua a linea dei 50 terawattora, era, non so, una trentina di terawattora, ma quasi integralmente quella domanda era soddisfatta dell'idroelettrico. Andavamo al 90-95% a rinnovabili, senza saperlo, ok? Poi l'idroelettrico non che non sia più cresciuto, ha continuato a crescere e ha una forte dipendenza che dipende molto da quanto piove in un anno, ok? Ma la grande crescita del dopoguerra italiana è stata coperta da produzione termoelettrica, tipicamente carbone, petrolio, gas. Lo vedete qua, tutta raccolta in questa parte qua, ok? Questa qui rossa è la piccola parentesi termonucleare che abbiamo avuto in Italia, piccolissima, e invece, e queste qui sono le parti eoliche e fotovoltaiche, ma ci torneremo dopo in dettaglio su queste parti qui, ok? Che hanno cominciato, sono comparsi, diciamo, da una decina d'anni a questa parte. Questa invece è la parte di importazione. La parte di importazione, che cos'è? La parte di importazione è nucleare, fondamentalmente che viene prodotto in Francia, che se facciamo due conti, sono un 40-45 terawattora che importiamo, dipende naturalmente da anno in anno, in media, 45 terawattora che importiamo dalla Francia, ed è come se ci fossero 6-7 reattori, dei 58 reattori nucleari che ci sono in Francia, 6-7 che lavorano solo per noi. In realtà, naturalmente, non è che sono 7 reattori dedicati a noi. Noi importiamo elettricità, ma se facciamo il conto di quanta ne importiamo, ne servirebbero 6-7 che lavorano a pieno regime solo per noi. Quindi l'Italia è un paese denuclearizzato. Ecco, questi sono adesso... Andiamo più in dettaglio, perché penso che magari, parlando di sostenibilità, siamo forse un po' più curiosi di sapere quante rinnovabili abbiamo in Italia. E questa è la produzione di energia elettrica da rinnovabili in Italia. Questa è la produzione complessiva dal 2005 ad oggi. Vedete come l'idroelettrico la svolga comunque ancora da padrone e vedete le importanti oscillazioni che ci sono da anno in anno dell'idroelettrico e che essenzialmente dipende da quanto piove. E poi vediamo l'importante crescita dal 2010-2012 hanno avuto in particolare queste tre forme qua, che sono il solare, cioè il fotovoltaico, l'eolico e in parte le bioenergie. E questa è la percentuale, anno per anno, di domanda elettrica prodotta da rinnovabili in Italia. Quindi, come vi dicevo, siamo attorno al 40%. Adesso lasciatemi buttare lì qualche provocazione. Poi, se volete, ne parliamo. È tutto positiva questa crescita che abbiamo avuto? L'abbiamo saputo gestire bene? Allora, questa qui è un focus sulla crescita del fotovoltaico in Italia. Produzione del fotovoltaico in Italia. Vedete che c'è stato... Il rosso è la barretta che ci dice quanto è stata installata anno per anno. Il verde è la somma di tutti gli anni precedenti, cioè l'accumulata. Vedete che c'è stato un picco di crescita nel 2011. Poi la crescita è andata a calare. In quegli anni, il fotovoltaico, poi si vede anche da questo grafico, il costo del fotovoltaico è diminuito molto. È diminuito molto proprio in questi anni qui. Ma in questi anni il fotovoltaico era ancora molto caro. L'elettricità prodotta dal fotovoltaico costava circa un ordine di grandezza in più rispetto all'energia, all'elettricità prodotta dalle fonti convenzionali, per intenderci. E quindi doveva avere un generoso, una generosissima incentivazione per poter essere interessante. Se no, nessuno l'avrebbe mai installata. era molto cara e noi abbiamo comprato praticamente tutta la tecnologia dalla Cina. In Italia non siamo riusciti a creare, nonostante la forte incentivazione che vedremo dopo, una filiera fotovoltaica indigena. Abbiamo acquistato i pannelli dalla Cina. E la Cina, quando noi installavamo 10 gigawatt, lo vediamo qua, in quegli anni, nel 2011 in Italia si installavano quasi 10 gigawatt di fotovoltaico a costi elevatissimi, mentre in Cina, il paese del cui proveniva la gran parte dei moduli che installavamo noi in Italia, venivano installati 300 megawatt in tutta la Cina. Ora che i costi di tale tecnologia sono più competitivi, perché è sceso molto il prezzo, lasciatemi dire che noi abbiamo pagato lo sviluppo delle industrie cinesi, noi e la Germania. Ora che i costi di tale tecnologia sono più competitivi, in Italia nel 2018, ma vuol dire anche in questi anni, sono stati installati 440 megawatt rispetto ai 10 gigawatt di 10 anni fa, mentre in Cina oltre 44 gigawatt, cioè 100 volte di più. Quella è una politica industriale. E noi mica tanto, noi abbiamo anche finito gli incentivi a questo punto. Noi, e forse è peggio andata la Germania, perché la Germania aveva delle industrie fotovoltaiche che hanno dovuto chiudere, perché ovviamente quando la tecnologia è arrivata in Cina producono gli stessi pannelli spendendo molto meno. E quindi hanno chiuso le industrie tedesche. Per far installare il fotovoltaico, ma non solo, anche in generale comunque le rinnovabili, che mediamente negli anni scorsi, adesso molte sono diventate competitive, costavano molto di più, ci volevano incentivazione economica affinché si installasse queste rinnovabili, se no non avrebbero avuto mercato. Queste incentivazioni economiche vengono pagate da noi, da ciascun utilizzatore dell'elettricità, attraverso gli oneri di sistema che vengono prelevati in bolletta. Quanto viene prelevato? Beh, lo vediamo qua. Questo è un grafico dell'Arena, in questi anni il prelievo in bolletta è attorno ai 12-13 miliardi di euro all'anno, che va in incentivazioni per le rinnovabili. E di questi, 6,7 miliardi di euro all'anno vanno solo al fotovoltaico. Vuol dire che all'incirca, facendo proprio il conto della serva, 12 miliardi diviso 60 milioni di abitanti in Italia, bambini compresi, ciascuno di noi paga 200 euro all'anno di incentivazione per le rinnovabili in Italia. È una scelta, va benissimo. Diciamo che io sarei stato un po' più felice se questo avesse prodotto un'industria stabile in Italia che producesse rinnovabili. Comunque, così non è. E questa è la bolletta elettrica da dove viene prelevato questi soldi da chi utilizza l'elettricità. Questa qui, anche questo purtroppo è una cosa molto attuale, poi la vedremo, vi richiamo la data. Questa qui è una bolletta elettrica tipica dell'ottobre del 19, dove il kilowattora veniva consegnato a casa nostra circa 20 centesimi al kilowattora. Di questi 20 centesimi, meno della metà veniva dal costo dell'energia elettrica. Poi ci sono le imposte, le tasse, eccetera, eccetera, e questa voce spese per ordine di sistema che è questa incentivazione alle rinnovabili. Arriviamo adesso alle nuove politiche energetiche. Da un Consiglio europeo del gennaio del 2007 diciamo è emerso che l'Europa voleva puntare come politica energetica alla sostenibilità, sicurezza degli approvvigionamenti e competitività. Ancora una volta, sicurezza degli approvvigionamenti e competitività non potrebbero essere argomenti più attuali. Penso che si spieghino da solo di cosa di cosa stiamo parlando. Già, queste qua sono tratte dal documento del 2007, quindi non adesso. L'Europa dipende sempre più dalle importazioni di idrocarburi. Se si manterranno le tendenze attuali la sua dipendenza alle importazioni di energia passerebbe dal 50% all'ora al 65% del 2030. Ovviamente la competitività dell'industria europea andrebbe a risentirne. Per sostenibilità ovviamente è una sostenibilità cercando di prestare attenzione a minimizzare l'impatto ambientale che la produzione energetica ha e al tempo devo dire che l'impatto ambientale veniva considerato più a 360 gradi. Cioè ormai come impatto ambientale si sente parlare di cambiamenti climatici. Ci si è scordati completamente invece dell'inquinamento che questo utilizzo energetico può causare. E adesso volevo richiamare un attimo l'attenzione su quello. Mentre passando gli anni diciamo questa attenzione all'inquinamento ambientale è andata un po' scemando e alla fine si sente parlare solo dei cambiamenti climatici. La sostenibilità si intendeva anche ovviamente una sostenibilità economica. Per raggiungere questi obiettivi fu stabilita la normativa cosiddetta 2020-2020 che erano degli obiettivi al 2020 che poi sono stati parzialmente raggiunti che richiedevano la riduzione delle emissioni dei gas clima alteranti del 20% rispetto alle emissioni del 1990 una produzione da rinnovabili del 20% sui consumi finali e una riduzione dell'energia primaria quindi essenzialmente un miglioramento dell'efficienza energetica del 20% rispetto a quello che sarebbero state le proiezioni senza fare alcun intervento. questi erano gli obiettivi europei. Volevo richiamare un attimo l'attenzione all'impatto ambientale tranne cambiamento climatico cioè all'inquinamento che più o meno conosciamo tutti noi. Questa qua è un'immagine anzi due immagini prese dello stesso panorama a Pechino in un giorno ecco quando arrivo qua non so mai qual è il giorno normale dei due diciamo in un giorno con maggiore inquinamento e in un giorno con meno inquinamento ok a Pechino si toccano tranquillamente solidi 950 microgrammi per metro cubo di PM10 però noi beh forse voi a Varese state già un po' meglio io a Milano è meglio che non faccia troppo lo spiritoso perché questo invece sono immagini prese a Milano in giornate non così drammatiche come qua perché qui i livelli adesso non so se si riesce a leggere questa qui è una giornata con un microgrammo per metro cubo di PM10 questa 260 che è un livello molto alto per Milano ok Milano che io sappia non si raggiungono mai livelli di 950 microgrammi ok però comunque sicuramente l'inquinamento ambientale è sicuramente una problematica che ci tocca da vicino quanto da vicino eh beh guardate lo vedete anche da queste immagini satellitari questa qua è un'immagine satellitare che rappresenta le concentrazioni di biossido d'azoto vediamo come le zone di maggior concentrazione di inquinanti siano la pianura padana e i paesi bassi essenzialmente per motivi non tanto perché ci sono più emissioni ma quanto perché c'è una stabilità dell'atmosfera la pianura padana come sapete è un catino dove c'è un ricambio atmosferico molto lento quindi le emissioni per quanto cerchiamo di limitarne ma rimangono lì e quindi la concentrazione degli inquinanti aumenta questo è il risultato e queste invece queste sono immagini nello spettro non del visivo queste invece sono immagini visive ed è una classica giornata come queste che stiamo vivendo adesso in pianura padana cioè di stabilità atmosferica e la cosa non è che si limiti a vedere queste immagini ha un impatto sanitario difficile attenzione quando qualcuno vi parla di impatti sanitari dell'inquinamento sono tutti difficili da valutare perché sono studi epidemiologici non banali però alcuni studi portano a tradurre qui non so se si riesce a vedere da lontano comunque a tradurre questi livelli di inquinamento in perdita statistica espressa in mesi qua perdita statistica di vita e qua vediamo che nelle zone che risultano qua essere più inquinate quindi ancora una volta le vediamo qua marcate in nero si parla di tre anni statisticamente persi di vita per motivi di salute causati da l'inquinamento non dalla CO2 mi raccomando che non è un inquinante nonostante si senta dire e studi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità portano a valutazioni a questo punto globali a quasi 7 milioni di decessi causati dall'effetto combinato dell'inquinamento domestico e ambientale nel 2012 ma la situazione non è cambiata adesso e questi qui sono quei decessi di cui vi parlavo prima vi accennavo prima per quelle popolazioni che usano la legna secca o lo sterco secco d'animale per cucinare nella capanna o per scaldarsi quindi le emissioni qualcosa come un milione e mezzo di decessi all'anno la salute e l'ambiente risultano essere messi a rischio più dalle emissioni inquinanti che da quelle di CO2 nonostante come dicevo prima ultimamente sentiamo invece l'attenzione sempre più portata sui gas serra ok a questo punto cosa possiamo fare dove possiamo andare beh allora se partiamo dalla considerazione che un'ora di raggiamento solare sul nostro pianeta irraggia sul nostro pianeta tanta energia quanta l'intera umanità consuma in un anno intero uno dice beh caspita se riuscissimo a sfruttare questa energia che ci arriva dal sole basta avremo risolto tutto e come potremmo fare beh attraverso le energie rinnovabili sicuramente poi qui non parlerò della fissione della fusione la fusione è ancora da venire e sicuramente l'efficienza energetica questo può aiutare mi raccomando l'idrogeno non c'è in questa lista spesso si sente dire sono stati scritti anche libri la società dell'idrogeno eccetera l'idrogeno non è una fonte di energia l'idrogeno è al più un vettore come può essere l'energia elettrica ma non è un qualcosa che si trova in miniero si trova nel nostro pianeta libero che posso sfruttare per produrre energia quindi l'idrogeno non è una fonte di energia quindi non può essere considerato tra le fonti che ci possono aiutare a uscire da questa situazione va bene detto questo che un'ora è equivalente al consumo di tutta l'umanità in un anno abbiamo risolto tutto e no purtroppo 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 no purtroppo non ancora diciamo speriamo tra non molto ma purtroppo non ancora qui vi presento un paio di limiti diciamo che hanno le rinnovabili al momento uno dei limiti di cui solo adesso ci si comincia a rendere conto è l'elevata richiesta di minerali di terre rare di elementi particolari che le rinnovabili richiedono per la loro stessa realizzazione qui vedete per esempio un confronto fra la richiesta di vari minerali qui è portato non so rame litio nickel eccetera per la realizzazione di una macchina elettrica rispetto alla richiesta di una simile macchina di simile potenza ma con motore convenzionale stesso discorso dicasi richiesta di minerali per a parità di potenza di una centrale eolica offshore eolica oppure fotovoltaica rispetto a una gas quindi c'è una domanda di minerali importantissima dalle rinnovabili tant'è che recentemente è stato fatto uno studio specifico dall'agenzia internazionale per energia e la conclusione di questo studio è che oggi i dati mostrano un incombente discrepanza tra le rafforzate ambizioni climatiche del mondo e la disponibilità di minerali critici che sono essenziali per realizzare tale ambizione quindi sembra che ora come ora le miniere le fonti di minerali non siano sufficienti quelle che abbiamo sulla terra o che stiamo coltivando sulla terra non siano sufficienti per arrivare dove ci propriamo a arrivare con le energie rinnovabili giusto per ancora una volta della serie un'immagine alle volte dice più di tante parole questo buco che è una miniera di rame che è una dimensione di 3x1x1 km3 da questo buco sono stati estrati 6 miliardi di tonnellate di rocce per estrarre 18 miliardi di tonnellate di rame equivalenti a un solo anno di produzione mondiale questo è stato fatto da 1906 cioè inoltre un secolo di coltivazione di questa miniera ma equivale solo al consumo di un anno di rame mondiale e per dare un'idea delle dimensioni questo escavatore che viene trasportato da due tier di quelle dimensioni in questa immagine non si vede neanche un altro limite delle rinnovabili in particolare mi sto riferendo al fotovoltaico e all'eolico è che sono intrinsecamente non dispacciabili una parolaccia ma che cosa vuol dire? beh vuol dire che il generatore eolico funziona quando c'è vento un generatore solare funziona quando c'è il sole che è banale ma che non necessariamente coincide quando la nostra società ha bisogno dell'energia e possono avere delle oscillazioni molto importanti lo vedete qua questo è un grafico per esempio in Germania vedete come in un certo periodo qua tra giù questo qua riguarda l'eolico sì questa è variabilità della potenza messa in rete da tutto il parco eolico irlandese che è uno dei paesi più baciati dal vento quindi dove l'energia eolica è più fortunata beh vedete che qui c'è stato tutto tipicamente d'estate il vento cala e che cosa succede? vedete qui invece il sole una giornata normale e qui ci sono delle nuvole sparisce il sole che cosa bisogna fare? bisogna prevedere delle centrali tipicamente a gas pronte a entrare in funzione e a sopperire la mancanza di energia quando succedono queste cose qua quindi già questo ci dice che uno non si può liberare comunque così stante le cose delle centrali a gas delle centrali a fossili perché comunque ci devono servire come backup e il tutto perché? perché l'umanità ancora non ha un sistema in grado di immagazzinare energia su grande scala per grandi tempi cioè mi sto riferendo alle batterie tutti noi abbiamo le batterie ma la batteria di un'auto è un discorso una batteria è in grado di far andare a una fonderia quando non c'è né vento né sole è un altro e l'uomo ancora non ha modo di immagazzinare energia in grandi quantità per grandi tempi il modo più efficace che ha è il ripompaggio idroelettrico cioè energia idroelettrica quindi facciamo cadere l'acqua da un bacino alto a un bacino basso produco energia elettrica e va bene se invece c'è un momento in cui ho eccesso di produzione di elettricità tipicamente magari di notte allora che cosa posso fare inverto le turbine ripompo l'acqua dal bacino basso al bacino alto questo sembra un'operazione stupida in realtà è uno dei modi più intelligenti efficaci ed economici in cui l'umanità è in grado di accumulare energia elettrica però noi magari possiamo farlo perché abbiamo le Alpi ma non sempre si riesce a fare un giochetto di questo tipo ok essenzialmente per farla breve questa non dispacciabilità unita alla nostra incapacità di accumulare energia elettrica provoca delle instabilità alla rete pericolosissime che possono generare dei blackout gravi a livello nazionale senza arrivare a dei blackout gravi è stata valutata che una scassa stabilità della rete costa all'impresa europea più di 150 miliardi di euro all'anno cioè alla fine se uno traduce tutto in costo capite che sono costi mica da ridere altrimenti uno che cosa può fare può fare tutta una serie di investimenti per rendere più stabile la rete per robustirla per inserire dei condensatori delle batterie che però sono tutte operazioni che tamponano il rischio non lo eliminano del tutto e che costano quindi qui la riflessione che vi voglio lasciare qua è che si ritiene che sia sufficiente abbassare il costo di produzione del kilowattora da fonte rinnovabile fino al livello del costo del kilowattora convenzionale per raggiungere la competitività non dico beh io se produco il kilowattora da rinnovabile allo stesso costo del kilowattora da fonte tradizionale sono competitivo e sono a posto no non è così la competitività scusate vediamo se schiaccio quello giusto se la competitività si raggiunge soltanto quando il kilowattora dopo aver raggiunto la parità del costo consegue anche la parità del valore che cosa intendo per valore che io quel kilowattora ce l'ho quando ne ho bisogno solo e sempre quando ne ho bisogno capite che è una richiesta ben diversa dalla disponibilità che ci possono dare in questo momento quelle rinnovabili e questo è il valore del kilowattora e non siamo ancora lì purtroppo beh la politica europea non è che abbia dato i risultati sperati bisogna dire vi ricordate era competitività sicurezza degli approvvigionamenti a parte che è superfluo quello che sto dicendo adesso alla luce di quello che sta succedendo ma lo vediamo qua questo è il grafico cosa che si vede qua sotto boh vabbè questo è il grafico della dipendenza europea quindi siamo a livello europeo questa è la sola percentuale la leggiamo qua in funzione degli anni dal 1990 1990 ad oggi come è andata la dipendenza europea quindi l'importazione delle fonti in Europa a seconda della fonte carbone petrolio gas e vedete come siamo sono andati ecco vedete natural gas e questo qui azzurrino guardate come è andato a salire siamo tra il 70 e l'80% nonostante le politiche europee di cui abbiamo parlato prima l'Italia è qua manco a dirlo vabbè insomma sappiamo noi non siamo mai stati un paese ricco di fonte se in chiesa andava solo idroelettrico eravamo fortunati ma la domanda era quella che era vediamo qua dipendenza 80% importiamo qualcosa come 120 milioni di tonnellate equivalente di petrolio sui 140 che abbiamo visto prima essere la domanda complessiva no? non meglio di noi sta la Germania questi qua sono tutti grafici e cose che si sanno da tempo cioè non è che adesso vengono fuori questi numeri perché siamo in crisi bello questo lucido sì è girato completamente questi qui sono ancora qualche incompatibilità fra fra me che è l'altro vabbè comunque niente il riassunto è che gli obiettivi che avevo fatto vedere prima europei erano al 2020 adesso si sono riproposti di nuovi obiettivi al 2030 ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra di più ci sono state vabbè questo era un grafico che voleva far vedere come nel corso degli anni questo qui era un obiettivo stabilito nel 2015 poi nel 2018 sempre al 2030 nel 2018 hanno rivisto gli obiettivi nel 2021 li hanno aumentati ancora ma alla fine possiamo ridurci a questa scritta qua ok il Parlamento europeo ha approvato oggi dove oggi è il 15 settembre del 2022 cioè altro ieri la direttiva rinnovabile che porta l'obiettivo rinnovabile è il 45% dei consumi finali del 2030 vi ricordo che al 2020 erano il 20% una modifica alla direttiva dell'efficienza eccetera eccetera è il consumo di energia e una riduzione lo leggete qua delle emissioni del 55% vi ricordo che al 2020 era il 20% cioè vuol dire strozzarci e infatti vediamo con quali costi perché indubbiamente costa questo tipo di politica i produttori di energia eterna sono stati capaci di mantenere la sicurezza e la qualità di servizio inserendo solo nel 2011 rinnovabili non programmabili per oltre 10 gigawatt con incentivi enormi come vi dicevo prima l'incentivo del fotovoltaico per esempio era un ordine di gradezza in più rispetto al costo del kilowattora tradizionale da quando sono finiti più o meno gli incentivi dal 2013 al 2020 si è passati dai 27 gigawatt in servizio di fotovoltaico e più eolico in Italia ai circa 32 gigawatt cioè c'è stato un'installazione media di 700 megawatt all'anno pochissimo volendo raggiungere gli obiettivi che abbiamo visto prima gli obiettivi europei al 2030 dovremo installare circa un ordine di grandezza in più di rinnovabili all'anno rispetto a quello che abbiamo fatto negli ultimi anni cioè un salto e a quale costo queste sono valutazioni recenti fatte dal professor Beccarello in uno studio specifico Confindustria ed RSE circa mille miliardi di euro da qua al 2030 solo in Italia da qua sette anni mille miliardi penso che quando adesso quando si parla di queste cifre io ho sempre difficoltà a valutarle mille miliardi quanto è migliore però se uno fa i ragionamenti sulle manovre economiche di cui si sente parlare ogni tanto al telegiornale o qualunque cosa uno senta o ascolti dove si parla di 15 miliardi in più 40 miliardi di là e beh capite mille miliardi di quanto sono sono euro sì non so se l'ho scritto da qualche mille miliardi di euro sì sì Luca sono euro non sono lire quindi questo prendersi conto di quanto realizzabile possa essere va bene ma il resto del mondo cosa fa no perché se parliamo di inquinamento vogliamo ridurre l'inquinamento nella pianura padana in Europa è una cosa che può avere il suo senso ma se vogliamo ridurre le emissioni di CO2 CO2 è un gas a serra a livello globale se ci diamo se ci strozziamo spendendo mille miliardi noi o lo fa tutto il mondo o capite bene che non ha nessun senso giusto vi do un'idea adesso lo vediamo l'Europa copre solo l'8% delle emissioni globali di CO2 l'Europa comunque vediamo il trattato di Chiotto prevedeva l'obbligo per i paesi industrializzati di ridurre le emissioni di CO2 e di altri 5 gas a serra del 5% rispetto ai valori del 1990 entro il 2012 andiamo indietro i 10 anni per l'Europa la riduzione prevista era dell'8% e per l'Italia del 6,5% che cosa è successo lo vediamo qua che cosa è successo questo è come sono andate le emissioni globali di CO2 dal 1990 cioè quando era l'anno di confronto dell'inizio di Chiotto ok al 2020 ad oggi l'Europa è scesa gli Stati Uniti sono scesi ma poi vedremo perché sono scesi l'India è tutt'altro che scesa e guardate che cosa ha fatto la Cina tant'è che al mondo complessivamente le emissioni di CO2 sono aumentate del 50% in questo stesso periodo quando il protocollo di Chiotto lo voleva abbassare del 5% tant'è che l'aumento di domande abbiamo visto che l'energia primaria continua ad aumentare nella domanda di energia primaria al mondo l'aumento di energia primaria al mondo nei primi 10 anni di questo secolo circa la metà è stata coperta da aumento di produzione da carbone ok sì sì io non ho neanche detto che sia fallito io ho confrontato quelli che sono gli obiettivi del protocollo di Chiotto rispetto a quello che è successo al mondo non mi sono permesso di dire che sia un fallimento poi ciascuno di noi lo può valutare secondo i propri parametri in Europa per ridurre l'emissione di CO2 una delle tecniche è quella di tassare l'emissione di CO2 cioè dici tu metti CO2 te la faccio pagare la tassazione di questa CO2 è arrivata a qualcosa a circa quasi adesso è quasi 100 euro per tonnellata un po' meno 80-90 alla fine quello che causa questo tipo di tassazione è in buona parte la delocalizzazione delle industrie più energivore cioè quelle industrie che producono tanta CO2 anziché o chiudere in Europa o pagare un tot di tasse vanno in Cina o in altri paesi a produrre e vengono delocalizzate con il risultato che molto spesso utilizza dell'energia prodotta per esempio in Cina da carbone quindi che comporta un'emissione specifica di CO2 più elevata di quella in Europa quindi a livello globale il budget risulta sicuramente deficitario dicevamo che cosa fa il mondo abbiamo visto le emissioni dell'India e della Cina come vanno e questo qui è carbone la Cina torna ad accelerare questa è una staffetta di tre anni fa in Cina sono in fase di costruzione lo sanno breve nuova centrali elettriche a carbone per una potenza complessiva di 148 gigawatt quanto l'intero parco di centrali a carbone in Europa questo è per fare i confronti con quello che succede al mondo e questo è quello che succede negli Stati Uniti avevamo visto al grafico precedente che anche gli Stati Uniti stavano diminuendo la propria emissione di CO2 uno dice ma come gli Stati Uniti aderiscono a Chiotto non aderiscono a Chiotto c'è Trump non c'è Trump perché diminuiscono eh perché perché loro sono stati interessati da sviluppi energetici di vasta portata fondamentalmente hanno sviluppato molto la tecnologia dello shale gas che ha un altro tipo di impatto ambientale comunque shale gas essenzialmente permette di sfruttare eh dei giacimenti di gas già noti molto meglio con delle tecnologie anche più economiche se vogliamo rispetto alle tecnologie standard in conclusione concentriamoci su queste due righe rosse e blu che è il prezzo del gas in Canada e negli Stati Uniti mentre questo è il prezzo del gas diciamo in Europa ok e questo qui è il prezzo del gas in Giappone allora che cosa possiamo dedurre da questo grafico la prima cosa è che gli Stati Uniti hanno del gas e quindi dell'energia in particolare dell'energia elettrica molto più a buon mercato rispetto al resto del mondo e questo dà un vantaggio indiscutibile questo vantaggio si è tradotto per gli Stati Uniti nella chiusura delle centrali a carbone per l'avvantaggio delle centrali a gas ed è per questo che abbiamo visto la diminuzione delle emissioni di CO2 negli Stati Uniti quindi non tanto per un carattere globale di volentà di riduzione delle emissioni ma perché c'è un ritorno economico immediato l'Europa è sicuramente svantaggiata da questo punto di vista e qui abbiamo un accenno poi lo vedremo più in dettaglio che cosa sta succedendo al gas adesso e qui che cosa vediamo il prezzo del gas in Giappone vi ricordo di questi anni 2011 2012 2013 lo tsunami il terremoto quello che c'è stato in Giappone che hanno chiuso quasi tutte le loro Giappone avevano 40 reattori nucleari mi pare in funzione li hanno chiusi praticamente tutti al 2011 che hanno dovuto coprire la produzione elettrica da nucleare importando tutto quello che potevano importare bruciando tutto quello che potevano bruciare tra cui il gas e il prezzo del gas ovviamente domanda offerta è andato alle stelle per il Giappone ok e adesso ci arriviamo adesso ci arriviamo arriviamo noi no ma molto peggio magari fossimo a quel livello là magari questi sono un paio di sono un po' complessi non ci perdo tempo su questi grafici qui però ve li lascio eventualmente di riferimento perché non è facile trovare lucidi con questo dettaglio e anche con quello successivo questo rappresenta l'approvvigionamento di gas in Europa da dove viene attraverso quale condotte tipicamente il gas può arrivare o via tubo e questo però crea un vincolo uno a uno tra il produttore e il consumatore oppure se uno vuole questo vincolo fa arrivare il liquefatto via nave quindi io posso comprare quello più economico da chi voglio quindi non sono vincolato via tubo però devo dotarmi di infrastrutture importanti e costose che sono i rigassificatori che nessuno normalmente vuole in Italia e anche questo mi sembra abbastanza attuale non so se state seguendo il discorso di volere o meno questa nave rigassificatrice che dovrebbe essere ancorata all'esterno di Piombino qui comunque vedete un po' i principali gasdotti che arrivano alcuni di questi arrivano direttamente in Italia questo anche questo non potrebbe essere più di attualità il nord stream quello che un mese fa è stato fatto saltare non si sa da chi ma è stato fatto saltare e questo anche questo non ci perdo tempo ma sono dati molto molto dettagliati queste sono le importazioni di gas in Italia quindi da dove viene il gas attraverso quale tipo di gasdotto da quali paesi li importiamo e qui vedete questo è un dato che ci siamo sentiti ripetere spesso ultimamente i circa 30 miliardi di metri cubi importati all'anno dall'Italia proveniente dalla Russia che si traduce visto che il nostro fabbisogno annuale è era attorno a 75 miliardi di metro cubi si traduce in una dipendenza del circa 40% dalla Russia allora attenzione questi dati qui sono riferiti a prima che succedesse tutto quanto adesso stare dietro agli ultimi aggiornamenti di questi dati non è facile ho sentito un po' di tempo fa che questi 30 miliardi di metro cubi erano dimezzati prima e poi a un certo punto questo 40% di dipendenza era diventato il 10% ok per cui questi sono numeri che stanno cambiando rapidamente quindi questi non sono aggiornati è solo per fare una fotografia della situazione come era e questo invece è decisamente aggiornato e arriviamo ai prezzi di cui si parlava prima questo grafico che cosa riporta allora qui c'è da concentrarsi sul PUN che essenzialmente è il prezzo dell'energia elettrica a noi questo è in Italia poi altro dato su cui concentrarsi sono queste due righine qua giallo e azzurro che fondamentalmente sono la stessa cosa che è il prezzo del gas allora facciamo alcune considerazioni su questo innanzitutto i prezzi di riferimento di cui ormai ci siamo scordati tutti ma che erano normali sino a due anni fa noi siamo qua ottobre settembre ottobre gennaio gennaio questo qua è gennaio del 21 e quant'era il PUN 50 euro megawattora lo leggete lo leggete qua sulla scala di sinistra qui abbiamo toccato picchi di 5-600 euro megawattora che poi si riflette tutto nella nostra bolletta elettrica ovviamente il gas di cui abbiamo sentito tutti parlare 100-200 il gas lo leggiamo da questa parte vedete questi picchi è 290-300 euro al megawattora quando si dice megawattora per il gas ci si riferisce al contenuto energetico chimico termico del gas ovviamente non all'elettricità contenuta del gas che non c'è ok ma andiamo a quello che era il prezzo precedente 10 10 quindi ci siamo scordati di questi numeri 10-15 euro a megawattora il gas ed erano i valori su cui la nostra industria la nostra azienda i nostri anche commercianti chiunque si sono normalizzati quindi capite perché con queste oscillazioni poi si sente dire che uno è costretto a chiudere o che uno gli conviene chiudere perché sennò andrebbe a produrre in perdita e vi faccio notare un'altra cosa febbraio di quest'anno è qui ma guardate già la guerra guardate già il livello del PUN dove era era a 250 rispetto ai 50 di prima è lo stesso il gas era a 110 rispetto ai 10 di prima quindi la crisi energetica europea non è originata dalla guerra in Ucraina non credete questa roba qua non è così questo grafico lo dimostra indubbiamente la guerra in Ucraina dà il proprio contributo con tutto quello che è successo che continua a succedere eccetera ma che il tutto sia originato da quello è una lasciatemi una bella storia una storia che fa comodo a qualcuno ok ma non è così tra l'altro come dato come considerazione nel secondo trimestre del 22 adesso praticamente i 27 paesi europei hanno speso 75 miliardi di euro per il gas di cui i 23 miliardi sono andati alla Russia nello stesso periodo del 21 il costo della bolletta del gas complessivo era stato di 20 miliardi di euro che non erano andati tutti alla Russia anche questo è un dato che poi uno può fare le considerazioni che vuole però io normalmente tendo a dare i dati poi uno pensa a quello che vuole ok questo è il risultato delle sanzioni delle sanzioni sul gas che l'Europa ha applicato alla Russia cioè abbiamo comprato meno gas pagandolo di più dando più soldi alla Russia questo è il risultato poi ciascuno ok e questo è in maniera molto sintetica il confronto dei prezzi lasciamo perdere in unità di misura che ci interessa poco di produzione di elettricità gas carbone e petrolio tipicamente il il gas lo vedete qua era stato sempre questo si sta scaricando non ce la fa quasi più ok era sempre stato basso vedete qui il gas che è quello rosso come è salito ultimamente e per conseguenza l'energia elettrica tra l'altro una battuta c'ho degli amici che hanno delle auto elettriche o ibride ultimamente se ne guardano bene ad andare l'elettricità riempiono il serbato della benzina perché spendono molto meno una volta l'auto ibrida andando l'elettricità oltre a un impatto ambientale totalmente diverso ok ma uno risparmiava anche perché a parità di chilometri percorsi l'elettricità costava molto meno adesso non è più così tant'è che vanno a benzina e questo è purtroppo l'aggiornamento della bolletta che vedevamo prima della torta che vedevamo prima vi ricordate che quella torta l'avevamo vista al 2019 cioè prima che succedesse tutto questa invece è l'ultima dichiarazione della Rera nel quarto trimestre del 22 cioè quello che stiamo pagando adesso si registra un aumento del costo di energia elettrica per la famiglia tipo con una variazione della spesa complessiva del più 59% oltre agli aumenti che già ci hanno stati vi ricordate che parlavamo di 20 centesimi al kilowattora e adesso siamo a 60 centesimi cosa ho fatto non volevo torniamo indietro ok siamo a 66 centesimi al kilowattora e oltretutto vi faccio notare come adesso la spesa della materia di energia che era meno della metà adesso è l'83% e gli oneri di sistema sono stati azzerati in questo momento perché il governo per cercare di far fronte a cercare di limitare un po' questo aumento delle bollette elettriche diceva per il momento togliamo gli oneri di sistema quindi in realtà se no dovremmo pagare ancora di più comunque questa è la situazione attuale 66 centesimi al kilowattora vi lascio con delle considerazioni personali basate su dati ma sempre considerazioni personali questo qui è un vecchio grafico però una di quelle poche volte che a posteriore si dice ah caspita ci avevano azzeccato capita raramente qui ci avevano azzeccato questo è un grafico di dieci anni fa che ho visto una presentazione della British Petroleum che cosa ci dice questo ci dice la dipendenza dalle fonti fossili per ciascun'area geografica macro area geografica quindi Nord America Europa Cina eccetera come è andata negli anni precedenti nei ventenni precedenti quindi nel 1990 il primo nel 2010 quando è stato fatto questo grafico e come era previsto andare di lì a vent'anni cioè nel 2030 che cosa vuole dire questo grafico e grandi linee beh dunque gli Stati Uniti erano degli importatori sono sempre stati degli importatori ma grazie a quella rivoluzione energetica dello shale gas e dello shale oil che abbiamo visto prima sono diventati dei grandi produttori sono degli esportatori adesso e questo era perfettamente previsto l'Europa sempre stata l'importatrice di energia lo è diventata e lo sarà ancora di più la Cina anche la Cina lasciatemela semplificare non è una valutazione di merito ma la Cina nel 1990 non esisteva no cioè nel mondo economico nel mondo energetico chi parlava della Cina infatti vedete che poi ha cominciato a crescere quindi ha aumentato le proprie importazioni di energia le importerà ancora di più vabbè il Medio Oriente è sempre stato un grande esportatore in questa situazione però attenzione perché questo qui è come va il PIL il prodotto interno lordo per paesi al mondo questi qua sono gli Stati Uniti e questa qua la Cina quindi lasciatemela semplificare la Cina deve importare ma compra quello che vuole dove vuole il prezzo che vuole gli Stati Uniti se ne sono tirati fuori perché hanno le loro riserve e in mezzo che rimane noi che non abbiamo il flusso di cassa della Cina lasciatemelo dire così ok siamo un po' come dire il 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 vaso di coccio tra i vasi un po' più sapete che recentemente c'è stato il ventesimo congresso del partito comunista cinese questo è quello che ha detto Xi la Cina deve raggiungere la neutralità carbonica questa è un'informazione che ormai nessuno si può permettere di non fare in modo progressivo e ordinato però, aggiungono loro senza mai dimenticare la sicurezza energetica tecnologie verdi, approvvigionamenti in materie prime, concorrono alla sicurezza nazionale eccetera eccetera la filosofia è realizzare il nuovo attenendosi al principio di realizzare il nuovo prima di distruggere il vecchio sulla nostra disponibilità di energia e risorse bisogna decarbonizzare, attenendosi al principio di realizzare il nuovo prima di distruggere il vecchio cioè, prima facciamo il passo verso le energie rinnovabili vediamo quanto questi riescono a coprire la nostra domanda prima di distruggere quello che ci ha permesso ad arrivare sin dove siamo arrivati fondamentalmente il carbone perché la Cina è andata avanti così e noi che cosa stiamo facendo? cosa abbiamo fatto? l'Europa si è buttata affannosamente è unica al mondo sulla riduzione delle emissioni fondamentalmente senza considerare la necessità di un abbandono graduale delle fossili esattamente il contrario di quello che stava dicendo prima l'Europa è così dipendente dal gas russo anche a causa delle sue sperazioni di neutralità carbonica visto che qualsiasi impegno serio a ridurre le emissioni globali richiede il gas naturale e questo era chiaro gli Stati Uniti promuovono la crescita economica e riducono al contempo le emissioni grazie alla sostituzione del carbone con il gas per la generazione elettrica che è quello che abbiamo visto prima perché loro riescono ad avere il gas a basso prezzo il gas indigeno ma mentre gli Stati Uniti producono il gas a livello nazionale l'Europa ha delacolizzato la sua fornitura di gas alla Russia e paesi come il nostro hanno annunciato di estrarre quanto aveva nel sottosuolo sapete anche le difficoltà che abbiamo in Italia a estrarre il gas quel poco gas che abbiamo nel nostro sottosuolo il risultato è la nostra forte dipendenza energetica dove nostra purtroppo non è solo relativa all'Italia ma come abbiamo visto è relativa a tutta l'Europa questa è l'ultima vi prometto che è l'ultima è l'ultima dopo l'irruente sviluppo della società in seguito all'invenzione della macchina a vapore quindi alla diffusione dell'energia da fonti fossili conseguenti impatti ambientali quali prospettive per il futuro? perché lo sviluppo della nostra società è venuto grazie all'invenzione della macchina a vapore fondamentalmente questo fondamentalmente è come è andata assieme adesso alla storia energetica del nostro pianeta una considerazione al tempo dell'impero romano uno schiavo che si alimentava con 2.000-2.500 kcal al giorno poteva produrre un lavoro per 300-400 wattora al giorno queste sono stime fatte sui lavori storici equivalente a circa 100 grammi di petrolio energeticamente parlando ogni cittadino europeo che oggi consuma circa 10 kg di petrolio al giorno sfrutta il lavoro di 100 è come se avesse 100-150 schiavi che lavorano per lui energeticamente parlando per cui la domanda è come produrre l'energia dopo questo questo picco diciamo dell'utilizzo dei combustibili fossili ovviamente la ricetta non ce l'ho come penso non ce l'abbia nessuno un'indicazione potrebbe essere investire in tecnologie opportune con scelte coraggiose non dettate da emergenza o ideologie che portano a cercare facili consensi e pericolose derive politico-sociale e anche infilarsi in situazioni difficili come quella qui siamo noi adesso io vi ringrazio spero di non aver ottenuto questo risultato scusa dove hai scattato questa foto è una delle mie seminari mi sono messo lì bene ci hai dato molte informazioni molti dati interessanti interessanti ma che richiedono un pochino di digestione non so se c'è qualche domanda che magari viene già fuori dal pubblico ne avrei tante ma ne faccio uno solo diciamo provocatoria allora lei ha giustamente portato molti dati senza con pochi commenti personali ecco beh io vorrei farle una domanda però con un commento un po' personale lei ha parlato di costi elevatissimi di conversione però la non conversione cioè ha dei costi elevatissimi per esempio l'inquinamento che lei parlava ha dei costi elevatissimi se noi non agiamo quei costi non diminuiranno mai e sono costi molto alti questi sociosanitari molto molto alti che probabilmente superano anche il costo della conversione energetica volevo una sua opinione anche su questo allora ha assolutamente ragione e l'ho premesso e sottolineato quando ho presentato gli obiettivi europei dove parlavo della sostenibilità ma anche della riduzione dell'impatto ambientale e lì ho portato io l'attenzione sull'inquinamento facendo vedere quei grafici delle immagini satellitari e quella riduzione statistica in mesi di vita per le persone in particolare che abitano a Milano o nella pinura padana quindi questo è in dubbio questo è sicuro poi penso che quando si parli di queste cose oltre che difficilissimo siamo anche quasi superflui dire ci costa di più di questo ci costa di più quest'altro allora indubbiamente lo sviluppo della società è stato grazie alla diffusione su larga scala e al basso costo delle energie fossili che hanno un impatto ambientale notevole però bisogna sempre dividere le due forme di inquinamento l'inquinamento ambientale da inquinanti che sono questi qua che portano questi decessi queste cose che abbiamo visto e l'inquinamento globale da CO2 che inquinante non è e lì il discorso si fa molto delicato ultimamente sembra che la CO2 sia la fine del mondo io ho portato l'attenzione sugli inquinanti che si hanno le prove che causino i decessi per ridurre quegli inquinanti ci sono tante tecnologie tante nel mondo occidentale ne sono già applicate ma anche da anni non so le marmitte catalitiche gli standard euro di emissione noi non sappiamo di tutti i disolforatori che vengono applicati per esempio alle centrali a carbone però lei ha qualche anno meno di me ma sicuramente si ricordare delle piogge acide che sono sparite sì a un certo punto hanno visto che morivano delle foreste con la tipologia le caratteristiche tipiche delle piogge acide attorno a Lake Tahoe negli Stati Uniti e uno dice ma come dopo tutto quello che abbiamo fatto fatto l'analisi dell'analisi erano piogge acide quindi inquinanti che venivano dalla Cina per dire quelle tecnologie sono note comportano un minimo aggravio di costi perché quando voglio la stessa energia ma per di più la voglio pulita è lecito che uno debba spendere qualcosa in più quello è un discorso che già da anni ma prima che si facessero questi discorsi qua il mondo occidentale quindi l'Europa gli Stati Uniti la stanno cercando di seguire ed è auspicabile che continuino a seguire che questo debba necessariamente portare a degli estremi che stiamo vedendo adesso a costo di strozzarci l'energia per ridurre un po' di emissioni quando altre parti del mondo non stanno facendo questo adesso non mi sto riferendo agli inquinanti ma mi sto riferendo alle riduzioni di CO2 questo se permette lo metto sul piatto della bilancia ma sugli inquinanti sono stato io il primo a portare l'attenzione su quello assolutamente io sono completamente in disaccordo con te perché i problemi economici li cambiano nel momento in cui tu fai dei provvedimenti economici che portano ai cambiamenti l'Europa sta cercando di cambiare le cose l'altro mondo non lo fa ma lo deve fare perché prima o poi qualcuno si sveglierà cioè se noi cominciamo a dire no non ce la facciamo perché gli altri non lo fanno siamo morti perché noi arriviamo a 3 gradi 4 gradi in più allora voglio vedere dopo come la facciamo cioè il pericolo è quello per cui non non condivido questo modo di scusate secondo me è molto negativo cioè impostare la cosa è vero i dati che tu dai sono veri ci sono dei grossi problemi sì ci sono dei grossi problemi però comunque l'Europa deve agire nella direzione di salvare il pianeta di salvare il pianeta sì nella direzione nella direzione perché se non se non abbassi la CO2 se non diminuisci la quantità di CO2 che c'è nell'atmosfera noi andiamo a sbattere quindi è giusto che l'Europa prenda provvedimenti verso le rinnovabili eccetera eccetera a costo anche di una crisi a costo anche di una decrescita direi anche sì anche a costo di una decrescita perché la decrescita non vuol dire che è negativa dobbiamo smetterla di pensare che la crescita è la cosa migliore che ci sia cioè questa mentalità del profitto e della crescita immediata è sbagliata è sbagliata è da qui che bisogna cambiare secondo me e impostare invece e convincere gli altri paesi se no non faccio nessun accordo con te a cambiare a modificarsi soprattutto dal punto di vista civile sono le persone che devono cambiare cominciare a comprare più le cose cinesi non comprare più le cose che hanno uno spreco ambientale enorme eccetera eccetera è questo che si deve dire perché se no se diciamo così ah no ma loro inquinano di più siamo morti domani ci facciamo la bara completamente giusto no preferisco non non rispondere perché il signore ha accennato a una tematica del cui io volontariamente non sono andato a toccare se non sfiorare l'argomento perché se no c'è altro che un seminario io mi occupo anche di impatto ambientale mi occupo anche dei discorsi di cambiamenti climatici ho recentemente delle pubblicazioni a riguardo dico solo che non dico niente non voglio entrare in questo argomento che si è La conclusione dalla mia presentazione è che il nucleare è inevitabile per il futuro. Urca. Sa che non ci ho neanche pensato. Il nucleare può essere una componente. Mi sembra che sia, forse tra le conclusioni che si possono trarre, è che almeno al momento non c'è una soluzione. Quando non c'è una soluzione, uno cerca di valutare quello che ha e il nucleare è, tra le opzioni, una fonte di energia che per chi crede, convinto che le emissioni di CO2 siano delettere per il nostro pianeta, quindi per esempio il Signore, chiede al Signore se per esempio pensa che il nucleare possa essere una soluzione. Di solito chi sostiene quelle posizioni pensa che anche il nucleare non sia una soluzione. Però lo chiede a lui. Io posso dire che secondo me il nucleare è una delle componenti, se vogliamo. La Cina sta investendo molto sul nucleare, così come sta investendo molto sulle rinnovabili, così come sta investendo molto anche su carbone, abbiamo visto. Se la sua domanda è più specifica sull'Italia, l'Italia già utilizza 40-45 terawattora di nucleare, ne facciamo già un ottimo utilizzo. Comprati, certo, comprati, comprati. L'idrogeno? No, l'idrogeno non è una fonte, cioè l'idrogeno può avere due ruoli attualmente, diciamo, nella società un po' del futuro, nella società delle rinnovabili. Uno è il trasporto di idrogeno, cioè le auto che vanno di idrogeno, e l'altro come tampone, come disaccoppiamento tra il momento di produzione di energia dalle rinnovabili non programmabili, quindi mettiamo, ho dell'energia in più, la trasformo in idrogeno, poi me la tengo lì, sin quando avrò il buco di vento, di cui si parlava prima, dico allora quell'idrogeno che ho accumulato prima lo ritrasformo in energia elettrica. Attualmente le tecnologie non le abbiamo, o meno non le abbiamo su quelle scale, costano un sacco, però ciò che tenderei a chiarire è che l'idrogeno non è una fonte di energia, cioè la nostra società non trarrà mai energia dall'idrogeno, l'energia primaria deve comunque venire dalle rinnovabili, dalle fossili o dal nucleare, quella che c'è in più la trasforma in idrogeno, magari tramite elettrolisi, se va bene ha un'efficienza del 70-75%, poi la riconverto in elettricità con una cella a combustibile dove ha un'efficienza del 50%, 5x7 è 35%, alla fine mi perdo due terzi dell'energia originaria e me la ritrovo in fondo. Però ho accumulato, insomma, come può fare la batteria, ma non è una fonte, assolutamente non potremmo mai ricavare da lì l'energia. A meno che lei non stia pensando all'idrogeno nella fusione nucleare, ma è un altro mondo, adesso ci sono livelli di prototipi, di studi, di progetti, di esperimenti, non esistono reattori a fusione adesso al mondo. E a detta di chi ci lavora non esisteranno per almeno i prossimi... è una storia infinita, almeno diciamo 40-50 anni dicono, però sono 50 anni che dicono che servono 50 anni. No, è una ricerca difficile, diciamo, che ha delle potenzialità notevoli, però attualmente ha da venire. Va bene, allora se non ci sono altre domande, ringraziamo il professor Nalmonti per questo interessante, davvero, intervento ci farà un po' riflettere tutti quanti, insomma. Sembra, effettivamente, colgo una situazione di grave difficoltà, insomma, in cui ci si trova. Forse più di quanto pensassi prima. Ecco, dalla tua presentazione vedo che l'Europa è un po' in un vicolo cieco. Ho questa impressione, insomma. L'Europa, obiettivamente, non avendo delle grosse risorse sul proprio territorio e lo sviluppo della nostra società richiede sempre un crescente apporto di energia, a un certo punto stiamo esaurendo le risorse di petrolio e di gas del mare del nord, il carbone della RUR non lo si può usare perché non si può usare, non ne abbiamo. Cioè, la situazione è quella lì che abbiamo visto. Altre zone del nostro pianeta hanno le risorse energetiche oppure se le possono comprare e purtroppo, ribadisco, l'avrete sentito un po' tutti anche da vari esponenti che ci raccontano che la crisi energetica dipende dalla guerra. Io vi ho mostrato che è iniziata da prima, le motivazioni sono diverse, la guerra non aiuta. Questo va da sé, no? L'estate dell'anno scorso si leggeva su giornali, telegiornali, guardate che a ottobre aumenterà notevolmente la bolletta. Come? Che cosa? E non capivamo. E poi queste bollette sono aumentate. Per cui, in effetti, il fenomeno era in atto. Chiaramente il fatto che poi è arrivata anche la guerra è stata una tempesta perfetta. Questa mi sembra un'interpretazione più attinente ai dati. Ottobre è qua. Vedete già il prezzo ottobre come era rispetto a quello standard? E poi, ok, la guerra... Ah, non vi ho detto, scusate, ma che cosa sta succedendo? Ne parlavamo prima, Luca, quando eravamo alla stazione. Questo qua è il prezzo del gas. Lo vedete? Ma come? Adesso torna ai livelli... E questo qui permette di dirmi una battuta, Non è così. Perché non è così quando fa freddo e non è così quando fa caldo. Contrariamente quello che ci dicono... Dobbiamo ringraziare i cambiamenti climatici. Lasciatemi dire così. Grazie al caldo di questo ottobre abbiamo riempito tutte le nostre scorte, le nostre europee, non solo italiane. Scorte di gas non abbiamo ancora utilizzato per riscaldarci perché sono arrivate le varie direttive che possiamo accendere gli scaldamenti in metà ottobre, il 22 d'ottobre, il 29 d'ottobre, adesso siamo a novembre che chi è che sente la necessità di accendere il riscaldamento? E cara grazia. Quindi domanda nulla, offerta, quella poca che c'è, non interessa più e il prezzo è andato lì. Ma io temo, mi piacerebbe molto che fosse un'inversione di tendenza reale, io temo che quando arriverà freddo poi sento che ci dicono che l'inverno difficile sarà il prossimo, non tanto questo. Quindi mi auguro che qui, però temo purtroppo che quella sia un'illusione. Comunque per riprendere la sua osservazione, no, verissimo, si vede chiaramente qua come il prezzo era. Guardi, la guerra è scoppiata qua, eccolo qua, questo è il picco, vede? 24 febbraio. Questo è il picco, ma dopo il picco è tornato ai livelli di prima, cioè la crisi energetica era già lì. E qualcuno che ogni tanto ancora si ostina a raccontarci che è tutto colpa della guerra. il gasdotto l'hanno fatto saltare un mese fa, no? Più o meno, i primi, è qui. Eccolo qua. Poi, ripeto, ciascuno uno fa le proprie riflessioni, sono necessariamente anche riflessioni economiche e politiche, ma politiche nel senso che l'energia è un bene che tocca tutti noi, ok? Quindi sono riflessioni che riguardano la nostra società e quindi necessariamente politiche, non politiche vuol dire destra, sinistra, giallo, blu, tutte queste cose qua, non è questo il discorso, sono scelte politiche, ok? Scelte strategiche, quelle a cui accennava prima al signore. C'è chi ritiene che è meglio andare in una certa direzione per certi motivi, chi ritiene che questo rischio non sia così marcato e quindi non sia il caso di strozzarci per certi motivi. Queste sono scelte politiche. Politiche con la P maiuscola, ok? Per intenderci. Non ho sentito cosa neanche. Vuole dire qua, forse a parlare, no, sono a parlare di tutti. Ah, sì, sì. No, no. no, 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 Grazie. 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 Ribadisco, non le sto dicendo, dobbiamo ucciderci perché domani finiscono. Non è così, perché poi tra l'altro con questa rivoluzione dove c'è il gas e dove c'è l'oil, le fonti di gas e petrolio sono quadruplicate negli ultimi dieci anni, per cui figuriamoci, se prima si stimavano 50 anni adesso sono secoli, cioè non è quello il problema. Ma prima o poi finiranno. No, allora sicuramente dovremo trovare delle altre soluzioni che possono essere innovabili, che possa essere nucleare, che possa essere efficienza energetica, ma senza necessariamente dire che la nostra società deve crescere per sempre. No, io non sono di questa idea, non sono praticamente ottimista nella decrescita felice, ma non sto dicendo che debba crescere per sempre la nostra società, no. Ma inevitabilmente dovrà trovare questo punto di domanda qua, deve trovare una risposta. Quel picco lì prima o poi finirà, questo è indiscutibile. Quindi è giusto andare in quella direzione, investiamo in quella direzione. Magari io porrei un attimo l'accento e l'attenzione sui tempi e sui modi in cui stiamo andando in quella direzione. Ecco, diciamo, quello. Però, indubbiamente si va da lì e questo discorso lo può allargare anche, non so, lei prima accennava l'acqua, ma certo, caspita, l'acqua è un bene primario, cioè dobbiamo imparare. In Italia cos'è che sono le ultime nuove? Ogni tanto si sente qualcosa. Meno della metà dell'acqua che entra negli acquedotti arriva a destinazione, no? Eh, non so, questo già penso che la dica lunga. Poi noi per fortuna viviamo in una zona che a Milano si estrae l'acqua dalla falda perché sennò coprirebbe la metropolitana. Però questa è una situazione particolare. Però, ecco, non vorrei essere stato frainteso in questa mia presentazione. Indubbiamente dobbiamo trovare una soluzione alle fonti fossili. Non possiamo pensare di andare avanti per sempre in quella direzione. Non ha senso, non ha senso. Magari, ribadisco, i tempi e i modi penso che possano fare la differenza. Vado io? Non mi sono fatto capire. Cioè, allora, qui o seguiamo i scienziati o andiamo a sbattere. Allora, l'IPCC, l'IPCC, il terzo rapporto è chiaro. E quando fai così già mi dici, ma allora, con quale rapporto hai con la scienza? Perché l'IPCC è un rapporto che ha praticamente migliaia e migliaia di scienziati che lavorano in tutto il mondo per capire cosa sta succedendo nel mondo. E noi non li guardiamo. Non guardiamo neanche quello che fa l'IPBS, cioè il pannello intergovernativo per la biodiversità e i servizi ecosistemi, che dicono che la biodiversità sta ormai andando. Stiamo andando alla catastrofe con migliaia e migliaia e migliaia di esseri viventi che muoiono. E si parla di miliardi e migliaia di euro, di dollari, che vanno in fumo per la mancanza di servizi ecosistemici. Cioè, se non guardiamo queste cose qui, stiamo sbagliando tutto, diamo ancora in mano alla politica di fare quello che vuole e non pensiamo assolutamente di accorpare le decisioni politiche con quelle scientifiche e con quelle sanitarie soprattutto anche. Chiuso. Grazie, io penso che il nostro ospite, appunto, oggi avesse il principale obiettivo di portarci dati, informazioni. Ovviamente quello che sollevi è un problema gigantesco, che non è il problema che lui voleva oggi affrontare. Quindi è giusto quello che dici, insomma, che esiste una compresenza di tante cose che richiedono una soluzione e non si sa bene quale sia questa soluzione. Non si conosce questa soluzione. Ho apprezzato molto la conferenza di oggi perché ci ha dato delle informazioni che non è facile trovare e che indubbiamente ci faranno riflettere. Ecco, quindi... Vi lascio anche inizio, se volete, ci sono le differenze. È molto interessante, grazie. Va bene, allora io direi... Allora, ringraziamo l'ospite, insomma, per questa serata insieme. Grazie.